È stata una partita che penso abbia fatto divertire la gente, un po' meno penso noi allenatori, perché quando una partita finisce 4 a 4 è stata piena di belle giocate ma anche piena di tanti errori. Effettivamente noi la partita al primo tempo l'avevamo completamente in mano, dominata, abbiamo comandato il gioco, siamo andati in vantaggio, 3 a 1. Poi il secondo tempo forse abbiamo calato un po' di intensità, anche se poi abbiamo avuto la palla del 4 a 1 per chiuderla, che è stato il gol annullato per troppa generosità del nostro attaccante che da solo dante il portiere Principi aveva già fatto gola, quindi ha voluto far fare gola a un suo compagno che purtroppo era in fuorigioco e da lì poi è nato subito il loro gol dal 4 a 1, siamo passati dal 3 a 2, abbiamo perso un po' di sicurezze, come giusto che sia, gli errori sono parte integrante del percorso e da lì l'hanno ribaltato, sono stati bravi loro a ribaltarla con qualche palla in contropiede, purtroppo noi vogliamo sempre giocare dal basso, abbiamo una mentalità che palle lunghe ci piacciono poco e dopo il 4-3 ci siamo rimessi a giocare e l'abbiamo riagguantata e le persone si saranno divertite sicuramente.